Sì, sono loro fuchostanti Ok, mi fermo qua Noi non abbiamo diritto neanche ad assistere Perché la giunta è di Milana E noi gli abbiamo chiesto semplicemente A che regola, che norma non prevede Del regolamento di giunta, ovviamente non lo sanno Io sono segretario generale Dicendo che ci dovevano cacciare dal piano E gli ho detto, scusi, ma noi abbiamo possibilità A entrare qui, anche se c'è più avviso Altrimenti come ruolo istituzionale Ci hanno detto, no, voi dovete uscire C'è morale, è un atto molto di forza E noi abbiamo semplicemente chiesto Qual era la norma che dava l'autorizzazione Lui di ponciarci Poi per il rispetto che abbiamo per i lavoratori Quindi si prendevano la pressione Del segretario generale Semplicemente abbiamo accettato di uscire Per non creare problemi ai lavoratori E noi abbiamo commercato di uscire Per non creare problemi ai lavoratori E noi abbiamo appena E noi abbiamo appena E noi abbiamo appena